Benvenuti alle finali nazionali di Un League Roma 2015, sensazioni? Siamo arrivati in un po' di giorni già qui a Roma e speriamo di fare il bene. L'anno scorso è venuto un bel torneo, quest'anno speriamo di puntare più in alto. Qui sembra un bel ambiente, ci stiamo trovando bene sin da subito, accoglienza abbastanza interessante. Vedremo domani come andranno le partite, niente, qui siamo intenzionati a far del bene, tutto bene, vedremo. Sensazioni positive e siamo ottimisti. Allora, vabbè, è sempre una sensazione importante poter partecipare a manifestazioni a livello nazionale, le voglie e le aspettative sono sempre le stesse di ogni anno, però la voglia di mettersi in gioco aumenta sempre più per fare onore ai compagni di squadra e fare onore delle persone che credono in questo concetto. Fuori! Ottima accoglienza, mi state facendo sentire un giocatore, grazie. L'organizzazione meravigliosa, albergo perfetto e speriamo di vincere. Siamo stati veramente accolti bene, meglio addirittura dell'anno scorso e spero che sarà un bel torneo e spero che la nostra squadra possa arrivare. Ho riservato un bel trattamento qui al Hotel Vintage, ci hanno portato l'holi, una domanda analcolica, energizzante, molto stimolante a dare le partite. Ehm, qui è tutto bello, tutto fantastico. Per me è la prima esperienza qui all'Unileague e mi siamo sentito come se fosse a casa. Spero di ritornarci l'anno prossimo. Seconda esperienza qui all'Unileague, abbiamo ricevuto un'ottima accoglienza e speriamo di fare una nuova avventura e speriamo di portare a casa l'amore. Unica, belle, al momento belle, siamo appena accoglienti. Siamo in Dugaspi. Speriamo di divertirci, vogliamo portare la vittoria a casa e la facciamo solo per i nostri amici. Sì, bravi voi cazzo!